SILIA è un'organizzazione che lavora sull'immigrazione e che lavora in particolare per accompagnare gli entrepreneur, gli immigrati o i rifugiati che vogliono lanciare in i paesi Con QUID quello che facciamo è trasformare i limiti del sistema moda che sono le rimanenze tessile e i limiti del mercato del lavoro che esclude persone più fragili e trasformare questa in un'opportunità Le sfide incontrate sono state numerose, in particolare all'inizio la credibilità come imprenditrice, come imprenditrice donna e come imprenditrice giovane Il più difficile è di pagare il suo lavoro, perché stiamo lavorando su dei progetti che sono radicalmente differenti da quello che è conosciuto, abbiamo du malo a stabilire un modello economico e quindi avere dei risultati. Il cuore di finanziare, chiaramente, e credo che sia importante avere una riconoscenza e dei espaci in cui si può s'exprimere e riconoscere anche i decideri pubblici agevolare la burocrazia e anche costruire dal basso alcune procedure da proporre poi alle strutture di policymaking e dall'altro lato riuscire ad avere accesso al credito sostenibile per le nuove realtà che vogliono partire